bentornati a buongiorno verona live siamo di nuovo insieme e oggi come promesso parliamo di sport sport parliamo di arti marziali che è un argomento che abbiamo già affrontato altre volte ma oggi lo affrontiamo in modo un po più approfondito e allora per farlo diamo il benvenuto a nicola provolo istruttore di arti marziali benvenuto allora dunque nicola tu sei istruttore hai anche sei proprietario anche della palestra fight and fit club e fai tantissime altre cose quasi elencarle non credo che sbaglierei sicuramente qualcosa dimenticherei qualcosa spiegami un po però come sei arrivato alle arti marziali da quant'è che le pratichi ma allora io ho iniziato a praticare arti marziali da piccolino piccolino avevo 56 anni però mio papà andava in palestra faceva faceva giudo io lo vedevo tornare a casa la sera stanco ma contento e quindi ho detto voglio venire anche io a fare questa cosa e quindi da lì è partito un po il mio il mio amore per per le arti marziali che ho continuato a portare avanti negli anni qualche anno mi sono fermato per motivi logistici perché sai finché non hai la patente e certo li fanno fatica a portarti in giro però diciamo è stato un po il filo conduttore di di tutta la mia vita le arti marziali è una cosa di famiglia anche si potrebbe dire visto che ha iniziato il papà poi lui in realtà ha smesso io invece ho continuato ecco però la cosa particolare secondo me della tua della tua persona è che tu hai fondato questa palestra aperto questa palestra qualche anno fa prima facevi altro io facevo un'altra attività prima avevo un'altra professione un libro professionista un'attività che mi ha dato anche soddisfazioni negli anni però e facevo praticavo le arti marziali come come divertimento no come hobby come fanno tante persone poi in realtà l'altra attività ha cominciato a darmi meno soddisfazioni non mi sentivo appagato e ho detto ma proviamoci a fare diventare del mio hobby un'attività professionale e così nel 2013 ho provato ad aprire la mia palestra che grazie dio nonostante nonostante tutte le vicissitudini anche recenti che conosciamo sappiamo però insomma siamo ancora qui quindi ci battiamo ancora e mi sembra giusto e tra l'altro insomma tu con in questa palestra hai a che fare molto con i bambini piccoli soprattutto gli adolescenti e diciamo adolescenti a 360 gradi perché poi tu sei anche insegnante in un liceo giusto in una scuola professionale in un istituto tecnico l'istituto tecnico san carlo lindberg per l'aeronautica insegno diritto perché io comunque sono laureato in giurisprudenza e quindi sì abbiamo abbiamo i corsi che vanno dai bambini di 5 6 anni fino fino agli adulti abbiamo deciso di suddividere i corsi in un corso per i bimbi quindi il corso si chiama young warriors per poi passare a un corso adolescenti teenager dai 12 13 fino ai 16 17 anni e poi chi resiste lo traghettiamo nel corso nel corso adulti chi resiste questo fa ridere fa sorridere però insomma ecco però adesso da profana insomma degli arti marziali spiegami un po cosa fate perché non c'è non c'è solo il krav maga non c'è solo il judo ce ne sono altre che tra l'altro io non ho mai sentito prima ed è molto interessante questo ok allora il krav maga è l'attività principale della nostra palestra è un sistema di combattimento che nasce in israele come metodo di addestramento dell'esercito ha alcune caratteristiche per cui ben sia dice a diventare un sistema di difesa personale anche perché è basato comunque su movimenti istintivi è più veloce rispetto alle arti marziali tradizionali da apprendere e quindi questo ha avuto molto a pilla anche tra tra popolazione civile i primi a portarlo tra i civili sono stati gli americani noi infatti apparteniamo a una federazione americana e poi da lì insomma si è diffuso in un po tutto tutto il mondo questa è l'attività principale che facciamo ovviamente per i bambini e teenager ci sono dei programmi differenziati pedagogicamente studiati per la loro età sia come contenuti sia come parte motoria certo questa è l'attività principale poi un'altra disciplina che abbiamo in palestra si chiama kali ed è il kali filippino è un'arte marziale tradizionale delle isole filippine del sud est asiatico è conosciuta per chi la conosce soprattutto per l'utilizzo di coltelli bastoni quindi armi da taglio e da punta e da percussione però c'è anche una componente a mani nude insomma importante e poi un'altra disciplina che che pratichiamo nella nostra palestra è il jiu jitsu brasiliano brasilian jiu jitsu noi siamo una filiale della della palestra madre che è il jiu jitsu club di insomma campagna e brasilian jiu jitsu ha avuto un grande sviluppo una grande evoluzione negli ultimi dieci anni che è andata in parallelo con la crescita di un'altra disciplina di sport al combattimento che sono le arti marziali miste ok mma perché tutti i grandi campioni per quanto riguarda la parte a terra si allenano nel brasilian jiu jitsu ho capito è fatto di due discipline fondamentali una con il kimono e l'altra senza kimono è molto molto interessante tra l'altro mi dicevi che soprattutto il cali filippino che non ho mai sentito prima e questo lo ammetto proprio candidamente è praticato molto dalle donne sì devo dirti che nel nostro corso sono più donne che uomini che praticano non lo so non so perché però anche nei corsi di krav maga dove in realtà ci focalizziamo più sull'aspetto difensivo dall'aggressione con una lama o con un bastone però quando saltano fuori bastoni o lame comunque le donne praticanti alzano la loro soglia di interesse quindi e questo poi si è confermato proprio attivando il corso di cali filippino incredibile anche questo fa sorridere però effettivamente alla fine se serve anche un modo per diciamo apprendere un metodo di difesa insomma benvenga e tra l'altro tu sei impegnato anche proprio su questo fronte vero sì allora noi da anni ci battiamo per la violenza contro le donne organizziamo corsi abbiamo organizzato vari corsi nel corso durante gli anni abbiamo organizzato varie varie attività anche con amministrazioni comunali oltre che con i comuni di verona ma anche della provincia corsi gratuiti riservati alle donne e anche alle forze dell'ordine e corsi proprio che ovviamente sono corsi che hanno una durata di tempo limitata magari dieci lezioni però in queste dieci lezioni noi siamo molto chiari perché non vogliamo prendere in giro nessuno lo diciamo inizio del corso l'obiettivo non è quello di insegnare la difesa personale perché la difesa personale non si insegna in dieci lezioni ma l'obiettivo è quello di dare degli input alle partecipanti degli spunti di riflessione che se poi si accende quella lampadina verranno ad approfondire in un corso regolare in palestra ci siamo sempre battuti per questa cosa qui organizzando appunto varie manifestazioni e poi se vuoi parliamo anche dell'altro dell'altro progetto io e uno dei dei miei istruttori giacomo giacomo vianello siamo promotori in italia di un progetto sociale che si chiama c'è luisa e questo progetto l'abbiamo non ce lo siamo inventati l'abbiamo scoperto su internet in un post che aveva fatto su facebook radio dj parlando di questo progetto che era attivo in austria svizzera e germania e allora abbiamo detto beh insomma noi ci occupiamo di difesa personale femminile da tanti anni vediamo se in italia esiste questo progetto perché non ne avevamo mai sentito parlare fatto le nostre ricerche abbiamo visto che non esisteva e quindi abbiamo detto beh perché non essere noi primi a portarlo in italia e la città di verona magari essere la prima in italia ad adottare questo progetto e così è stato è stato un iter un po lungo perché come al solito quando in italia la burocrazia non aiuta no per niente quindi quando abbiamo ci siamo approcciati alla materia abbiamo voluto capire come muoverci per un po ci siamo spaventati però insomma piano piano siamo riusciti ad avere tutte le autorizzazioni del caso abbiamo avuto tutti i patrocini perché prima abbiamo cercato di avere l'appoggio più esteso possibile a livello dell'amministrazione comunale e poi da lì abbiamo iniziato a proporlo è un secondo noi è un bel progetto che ha delle grandissime enormi potenzialità come si è rivelato in austria germania e svizzera in italia purtroppo noi facciamo altre attività sia io che che giacomo e quindi abbiamo poco tempo per seguirlo e promuoverlo avremo bisogno di un di un volano a livello nazionale che ci aiutasse a farlo diffondere adesso qui a verona c'è rotary club che ci sta dando una mano in particolare la delegazione di verona sud infatti in questo momento in fiera dovrebbe esserci la fiera dell'agricoltura qui a verona e rotary ha uno stand dove parlano delle loro iniziative ma dove parlano anche del progetto c'è luisa ecco è molto interessante vedere anche delle realtà come la vostra che si danno da fare su questo per esempio prima guardavamo su facebook sono passate in sovraimpressione delle immagini un video sul seminario gratuito sull'uso dello spray del peperoncino anche questo è interessante perché effettivamente sono quelle situazioni quei gesti che magari pensiamo di saper fare in un momento di insomma di difficoltà in cui ci serve e poi quando ci si trova nel momento delicato non si riesce ad agire voi invece così insegnate appunto a queste ragazze queste donne a reagire invece l'aggressione giusto certo sì siamo molto orgogliosi tra l'altro di questo seminario che abbiamo fatto sull'utilizzo dello spray del peperoncino è stato un po' un seminario pilota per vedere come andava ha avuto un enorme successo e adesso speriamo di poterlo replicare vorremmo poterlo portare anche ad esempio nelle scuole perché anche alla luce dei recenti fatti che ci sono stati di cronaca qui in una scuola superiore di verona forse se sensibilizziamo i ragazzi all'utilizzo di questo strumento anziché vederlo come un gioco ma vederlo veramente come un qualcosa che può essere utile può salvargli la vita forse possiamo fare qualcosa di buono l'abbiamo fatto in sempre giacomo tra l'altro questo istruttore col quale facciamo veramente tante cose insieme ha preso questa certificazione sull'utilizzo dello spray peperoncino attraverso un gruppo che si a difesa donna che è un gruppo di formazione che è radicato a livello nazionale e alle partecipanti abbiamo insegnato è stato come al solito sono stati dati tanti input no perché magari tante di loro lo avevano però per esempio ti dico una banalità molte di loro non sapevano che lo spray peperoncino scade è una scadenza quindi la cosa più banale ce l'avevano in borsa l'hanno tirato fuori e mezzi erano scaduti no quindi ecco cose veramente banali però poi anche dove portarlo come tenerlo certo cioè quali tipi cene perché ce ne sono in commercio migliaia di tipi che compri su internet che compri nei negozi quindi anche capire che differenza c'è tra uno e l'altro e tutte queste cose qui insomma ha funzionato ha funzionato e tra l'altro adesso siamo proprio veramente a ridosso la settimana prossima si festeggia la giornata della donna contro la violenza femminile però è una giornata che come ci dicevamo anche al telefono che insomma sì ok si parla se ne parla in quel giorno in quel periodo però bisognerebbe parlarne tutti i giorni giusto allora da un lato è una cosa positiva che se ne parli almeno un giorno all'anno perché comunque si tiene viva l'attenzione sulla tematica difficilmente sui nostri canali social troverete grandi proclami per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne o per la festa della donna perché noi siamo convinti che sia una cosa che va fatta 365 giorni all'anno ma è proprio la nostra mission quindi e quindi non ecco difficilmente troverete queste queste cose però ecco sicuramente è un'occasione per potersi far conoscere per poterne parlare per poter sensibilizzare le persone questo e questo va benissimo tra l'altro il progetto c'è luisa è partito ufficialmente proprio con una conferenza stampa in comune di verona l'8 marzo del 2019 se non sbaglio dove c'è stata questa conferenza stampa in comune di verona abbiamo scelto insieme all'amministrazione comunale l'8 marzo proprio come data simbolica ecco ecco tra le varie le varie donne che seguono i vostri i vostri corsi o i seminari c'è penso quasi sicuramente c'è qualcuna che magari è stata violenta appunto vittima di violenza o comunque ha subito un'aggressione che quindi è venuta da voi per sapere capire come far difendersi sì allora devo dirti che questa è una è sollevato un punto interessante perché allora l'uomo che si avvicina agli sport di combattimento le arti marziali lo fa perché è un troglodita no concettualmente è un po così l'uomo che fa arti marziali è perché deve sfogare deve buttare fuori eccetera eccetera le donne che si avvicinano alle arti marziali per lo meno per la nostra esperienza lo devono fare perché hanno una motivazione forte ok anche perché cioè diciamocelo chiaramente comunque venire in palestra una due sede a settimana e prendere botte non è proprio bellissima e poi prendere botte sempre in maniera controllata a livello di allenamento eccetera però non è proprio nella natura umana quindi devono avere una motivazione molto forte la motivazione molto forte spesso è stata perché o hanno subito direttamente violenza fisica o psicologica o perché sono state toccate comunque molto da vicino da conoscenti familiari eccetera e quindi gli scatta quella molla per il problema è che poi noi ci troviamo a dover affrontare situazioni a cose accadute no e non è sempre facile lavorare sul già successo noi vorremmo lavorare sulla prevenzione no vorremmo lavorare tanto sul evitare che le cose succedano evitare di mettersi nelle situazioni di e questo tema quello della prevenzione è ancora molto poco sentito come dicevi prima io insegno anche alle scuole superiori quando parlo anche con le mie studentesse di queste tematiche si fanno il sorrisino dicono ma si la vivono come una cosa molto distante da loro quando in realtà basterebbe che aprissero i giornali o guardassero un telegiornale e quotidianamente succede qualcosa no il brutto è dover intervenire a cose già avvenute noi vorremmo vorremmo intervenire prima vorremmo aiutarle prima le donne no e per questo speriamo che ci sia più partecipazione ai nostri corsi assolutamente poi comunque in ogni caso anche a cose già fatte purtroppo sicuramente un aiuto anche psicologico anche solo psicologico sicuramente contribuisce a migliorare ma allora ti dico noi abbiamo avuto dei casi negli anni di donne che sono state vittime di violenza aiutate anche da tutti i canali che ci sono che grazie a dio sono comunque canali che che funzionano e verona devo dire è un'amministrazione molto sensibile alla tematica ci siamo trovati a lavorare con donne che avevano seguito tutto il percorso di uscita quindi accompagnate da professionisti psicologi eccetera i quali a loro volta avevano consigliato di partecipare a un corso tipo quello che facciamo noi o comunque di iniziare un percorso nelle arti marziali perché comunque uno degli effetti positivi delle arti marziali è che danno autostima e queste donne vittime di violenza la cosa che hanno perso principalmente è l'autostima hanno veramente una considerazione bassissima di sé e quindi con noi lavoriamo tanto su questo è interessante molto molto bello sinceramente e anzi vi faccio i complimenti per quello che fate tutti i giorni insomma nicola io ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi è stato davvero un piacere e vi faccio un grande in bocca al lupo per continuare su questo è il percorso grazie grazie a voi benissimo allora adesso diamo spazio di nuovo al palinsesto noi ci rivediamo tra poco grazie a voi